se tu vedi qua viene filmato l'hai pigiato? si benissimo ok ragazzi abbiamo insegnato a mamma Massa a filmare con la reflex in questo momento per ovviamente unboxare Black Reaver un bel unboxing sostanzioso specialmente delle nuove Winkler Wheels mi metti mi taglio una gamba ma niente ne ho due come dico sempre sono troppo distante ma se ti avvicini tanto lo vedi c'hai lo schermino no perché cerca di buttarli con cognizione un po' di cartone adesso sono passati dalla carta al cartone oh questi ve li mando e se li giri questo è dello store Berlin bellissimo questi sono quelli della Black Reaver mi hanno mandato tanti poster mi hanno mandato tanti poster come sono scema come sono scema un po' un po' e se lo dici tu che sei mia madre c'è solo da crederti allora ci sono dei nuovi cosini vabbè aggettivi bolli tutte robe che possono servire tutte cose che possono servire altro che allora flat face z arir foid flat face cubes tongui krake camo blu rasta appoggiamo un attimo aya cartone cattivo tongui zombie superman star wars piccole berlinwood mi sa che abbiamo finito un cubo black river tracks wide white wide white gioco di parole wide silver wide black i buori wide black wide silver non c'ho vien e anche quei black river tracks mi sa che abbiamo venuto abbiamo vendito questo è un rail di un double star set up secondo me allora qui c'è un box due reloaded adesso i quarter li impacchettano tutti così comunque questo è un quarter low questa è carta questo è cartone questa è una J-Ramp questo è cartone questi sono due bench questo è un table questo è un altro table questa carta è un altro table questa carta con box box super reloaded no box super reloaded stanni a sentire no dentro carta impossibile che altro io sono tutte le Winkler va bene, salteranno fuori, magari sono qua sotto, è facile a dirsi, facile è anche fatto. Adesivi, chi vuole un po' di adesivi, un po' di adesivi. Ancora poster. Mini poster. Chi vuole le mini poster? Un altro. Ok, ci soltano un po' di niente. No, lì non c'è sicuramente niente. Allora, qua sotto. E che cos'è? Questa che cos'è? Che non le hai detto. Allora, adesso andiamo a scavare sotto ogni singola struttura. No, lì non c'è niente sicuramente. Né anche l'altro mini table. Può essere o in quella lì. sotto qua? Dici che c'è qualcosa? Taglialo con il taglierino. Non so dov'è. Eh, l'avevi in mano prima. Beh, qua. Mi sa di no, però. Due. Piano. No, qua dentro non c'è niente. Molto bene. Eh, ma togliere un po' di carta adesso a questo punto. E poi ci guardiamo. Stiamo filmando. Non so. Devo mettere sti qua a pettinare anche le bambole. Mi sa che anche lì si sentirebbe che fosse qualcosa. Eh, infatti sono qua. Ah qua. Non ho una ragione per la quale occuparli. Allora, sono tre, quattro, cinque, sei, sette, oltre, quattro, nove, dieci, undici, dodici, tredici, dodici, quindici, sedici, uno al tenuto. Adesso lo raccogliamo. Il prossimo pericolo adesso è toccato il bellissimo regalo dell'Unitia Ruiz. Che già mi stava a portare un colpo per favore. Sono l'Unitia Ruiz che sono l'Unitia Ruiz che sono l'Unitia Ruiz. che abbiamo finito. Mamma, che è male? Eh, infatti non l'ho firmato. Non l'ho firmato. Allora, questo è l'Unboxing. La roba c'è? Ce n'è dell'altra, quindi ordinate, ordinate, ordinate. Contattatemi, contattatemi, contattatemi prima che io muoia di caldo. Innanzitutto, vi do appuntamento al prossimo unboxing che sarà breve perché mi devono arrivare i Trax e Planton. Ci vediamo al contest il 18, qua, Piazza Duomo 62 la sera. Best Street Contest. Summer Meeting Contest 2. Mamma, qui schiaccia il piacete rosso. Grazie.